Bentornati tutti quanti su canale di WFW, sono già per il vostro Jason Allora ragazzi, oggi voglio fare un video per parlare un attimino di un film che è se oggi nelle sale a cui veramente non vedo l'ora di vederlo perché sono molto offestionato a questa saga so che ultimamente ho avuto molti passi però con questo capitolo sono messi a potermi anche un po' riprendere perché offre qualcosa di nuovo tra virgolette, anche se però non è effettivamente così sto parlando di La Casa, il risveglio del male da oggi è disponibile nelle sale italiane Allora, questo film ho grosse aspettative perché comunque ritorna come produttore Sam Raimi con lui creato via, vita alla saga di Evil Dead con Bruce Campbell qui non si sarà più Bruce Campbell, il film è strumentato in una città, in un palasso di Los Angeles sarà quello che si è capito e due sorelle affiatate che si ritornano dopo tanto tempo ritrovano nel cronomico, nel libro che evoca i demoni è un mindato famoso nella saga di Evil Dead e la sorella, una delle due sorelle viene posseduta da questa entità malvasia che qui inizierà un duro sconto pieno di sangue, elementi splatter, saranno le recensioni sarà abbastanza cruento come film e io mi aspetto questo dalla casa tanto sangue tanto sangue e molto splatter perché quello è l'elemento tipico della casa se neanche abbastanza orribilanti tipo mi ricordo il secondo film della casa dove aveva un lato molto più comodi, molto più humor che grottesco horror che quando probabilmente il demoni gli schissava via l'occhio e gli entrava nella bocca della ragassa e lì era assurdo poi il primo che c'era il demoni che prende la matita e gli era infilzata nel piede dell'amica oppure la fidanzata di Us Bruce Campbell che viene decapitata da Us e poi si mette a ballare senza testa cioè ci sono delle sequenze un po' che ti fanno ridere infatti in questo film mi aspetto delle sequenze anche un po' comiche perché la casa è quello è un film horror splatter che non vuole prendersi sul serio vuole divertire lo spettatore quindi mi aspetto ai demoni che passano delle stronzate assurde che tu neanche credi a quello che c'è andando su schermo però dal resto del film mi sembra che la tematica e l'horror sia ritornata in primo piano e che il film sia molto serio non ha elementi ha la casa 2 la casa 2 aveva degli elementi molto comedi ma era fatto apposta perché col secondo Evil Dead Sam Raimi ha voluto tenere la tematica horror splatter ma ha voluto anche un po' far divertire lo spettatore umorezzandolo infatti Sam Raimi inizialmente nel suo film horror fa delle sequenze molto comiche tipo anche Drag Me Here to Hell ci sono delle sequenze comiche tipo quella della capra che parla all'improvviso però è quello bello mi piacciono questi film horror che non si prendono sul serio fino a un certo punto e quindi tu ne sbatti le palle di criticarli perché sai che sono film horror fatti per divertirti per farti anche un po' dire quindi mi auguro che la casa del risveglio del male sia così stando le prime resenze in italiane sembra che sia stato appressato e funziona meglio di Evil Dead del 2013 remake direttolo a Fede Alvarez che qui torna alla regia Fede Alvarez torna di nuovo alla regia di questo film mentre Sam Raimi torna come produttore quindi la cosa è anche abbastanza interessante ma fatemi sapere voi come tu di sotto cosa ne pensate di questo film chi lo andrà a vedere io lo andrò a vedere sabato pomeriggio quindi la recensione arriverà verso sabato sera e veramente spero che le spettative siano al massimo per questo prodotto ciao a tutti